ciao bambini oggi vi racconto una storia che è una delle mie preferite parla di una vecchietta questo è il libro parla di una vecchietta e di un saggio una vecchietta un po strana ma il saggio non vi dico che cosa gli dirà dà dei consigli ma dei consigli un po particolari vediamo insieme una casetta troppo stretta una vecchina viveva soletta in una piccola bella casetta un vecchio saggio l'andò a trovare e la vecchina iniziò a brontolare guarda che strazio questa casetta non ci si gira da tanto è stretta porto qui lo collino fu la risposta senti senti che strana proposta subito quella fece l'ovetto poi ruppe la brocca facendo un voletto la vecchia gridò che da brillante portare qui una gallina ingombrante già io da sola in questa casetta non mi giravo da tanto è stretta vecchio saggio mi puoi aiutare in due qua dentro non si può stare che dice il saggio che si deve portare a casa la vecchietta un animale quale animale una gallina sì ma questa appena entra in casa combina subito dei guai quali fa un voletto e fa cadere la brocca e poi fa un uovo sul tappeto della signora porto qui lo copretto fu la risposta senti senti che assurda proposta la capra mangiò le tendine fiorite e le gambe del tavolo sue preferite la vecchia strillò per tutti i portenti così non si può certo andare avanti per starci in tre la casa è già stretta e ha pure le pulci questa capretta vecchio saggio mi puoi aiutare non so proprio che pesci pigliare il saggio dice che ora deve portarsi a casa un altro animale quale la capra ma anche lei combina subito dei guai ti ricordi quali mangia le tende fiorite mangia le gambe del tavolo porta dentro il moiolo fu la risposta senti senti che che faccia tosta prima il maiale inseguì la gallina e dopo fece man bassa in cucina la vecchia gridò che quarantotto mi hanno già quasi distrutto il salotto anche il maiale si è detto d'accordo vivere insieme è un progetto balordo vecchio saggio mi puoi aiutare così la casetta potrebbe crollare no un altro animale in quella casetta così stretta qual animale stavolta deve entrare il maiale giusto il maiale e anche lui ne combina una delle sue mangia tutto quello che trova portò dentro lo mucco fu la risposta questa è davvero una folle proposta la mucca entrò decisa e fiera balzò sul tavolo e spaccò la teiera la vecchia urlò caspiterina che ne sarà della mia cucina sembra già diventata una stalla ora pure il soffitto traballa e per ultima pure che chi entra una grossa mucca giusto una grossa mucca e appena entra che fa sale sul tavolo e rompe la teiera la vecchina proprio non ce la fa più adesso il saggio cosa consiglierà alla vecchina vediamo vecchio saggio che puoi suggerire questi inquilini mi fanno impazzire mandali fuori hai proprio ragione vedrai che questa è la soluzione dalla finestra uscì la gallina ora c'è molto più spazio di prima uscirono insieme maiale e capretta la casa non sembra poi così stretta infine andò fuori la mucca altezzosa guarda guarda che casa spaziosa grazie buon saggio per il tuo aiuto la casa prima pareva un imbuto ma ora mi sembra davvero spaziosa lo vedi anche tu quant'è graziosa che pace che gioia che libertà questa casetta è la felicità e mentre gli altri in san fuori a guardare l'allegra vecchina continua a ballare finalmente tutti gli animali sono usciti e ora la casetta è tutta per la vecchina che non è più triste non la vede più tanto piccola adesso senza gli animali la vede grande bella spaziosa pulita ordinata spero che la storia vi sia piaciuta se vi è piaciuta mettete il pollice in su e iscrivetevi al canale ciao